inizia adesso il secondo tempo devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari ma soprattutto per riprendere fiducia loro l'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara se vogliono dare una sbagliata allora fuori davvero di pochissimo, gran peccato la conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere e qui sulla palla recuperata la mette in avanti c'è un'opportunità per attivare